Io sono Simone Lemmo e questo è il podcast di Detto Tra Noi. Che però poi è diventata ricerca, è diventata sperimentazione, è diventata innovazione inevitabilmente della tradizione giudice storico di cortesie per gli ospiti, volto di discovery, cortesie per gli ospiti, ristorante, uno chef in fattoria. Insomma, chi più ne ha più ne metta, vero Roberto Valbuzzi? Beh, ciao a tutti, fantastica presentazione, grazie mille ragazzi, sì, tutto giusto. Grazie a te Roberto, buon pomeriggio, benvenuto e intanto grazie di cuore per essere qui con me. Io ho una domanda di rito per tutti gli ospiti che passano dal nostro salotto, Roberto, che è la prima che facciamo, forse anche l'unica e importante e sensata della nostra conversazione. Come stai, Roberto? Molto bene, molto molto bene, siamo in un periodo fantastico di crescita e di stanchezza da una parte, perché abbiamo i bimbi ovviamente che sono in quella fase, un anno il più piccolino, tre anni la grande e mezzo, quindi a livello, diciamo, familiare, una bella evoluzione, un bel cambiamento e un arricchimento, insomma, quotidiano, che ogni giorno scopri tante cose nuove e incastri poi la famiglia in mezzo a quello che è l'aspetto lavorativo, perciò facendo quadrare tutto insieme è un bel periodo di tanta felicità, tanto intenso e tanto pieno, ecco. Ma ti dai un voto più alto come papà o come chef, Roberto? Secondo te in cosa sei più bravo? No, credo di essere un papà da 12 e uno chef lo lascio dedicare agli altri, dai, ecco. Però anche lì il papà da 12 lo giuggeranno i miei figli quando saranno grandi. Ecco, quindi avremo modo... Certo di dare il mio meglio, ecco, dai. In un'intervista insieme nel 2040 magari sentiremo anche i tuoi figli che ci racconteranno che papà è stato Roberto Valbuzzi, invece, a proposito di definizione di etichette, in una, insomma, delle tue creature, una dei tuoi libri, Cuoco, Ristoratore, Contadino, Ricette, Sapori e Ricordi, Fatti d'Aria, Terra, Acqua e Fuoco, ti definisce appunto Cuoco, Ristoratore e Contadino, no? Che sono le tre dimensioni che principalmente ti appartengono. Quale di queste sfumature hai scoperto per prima nel tuo processo di crescita, di formazione, anche perché poi l'ambiente familiare nel tuo percorso lavorativo, professionale, è servito tantissimo, Roberto? Beh, sì, ci sono cresciuto in mezzo, quindi nel senso, cioè, non dico non puoi scappare perché la viettuga c'è sempre, ecco. Però, sai, quando vivi in mezzo a delle persone che amano fullemente quello che fanno nella vita, che sia l'andare a coltivare, che sia il raccogliere il prodotto, che sia il, non so, la cucina e quindi la trasformazione dei prodotti, sono tutte queste cose ovviamente che ti vengono trasmesse. È ovvio che per consecuto tempo, possiamo così dire, prima forse ho amato e amo, insomma, la parte della terra, quindi dell'agricoltura, del contadino, e poi è venuta la parte di Cuoco e poi è venuta la parte del Ristoratore, ma questo proprio per evoluzione di vita, perché io sono cresciuto in mezzo alla campagna, alla fattoria dei nonni, dove tuttora vivo, nel senso, perché poi, insomma, abbiamo ingrandito e sviluppato altre cose e ci ho fatto dentro anche casa mia e quindi, diciamo che questa cosa io l'ho sempre vissuta da quando ero piccolissimo, perché poi fino ai sette anni ho proprio vissuto con i nonni, perché i miei facevano fatica a tenermi, insomma, perché ovviamente lavoravo tutti i giorni nel ristorante e era un po' un problema, quindi io sono cresciuto con nonno e nonno e sono cresciuto in mezzo ai campi e perciò questa cosa, sai, è venuta fin da subito, no? Cioè, quello che è, pianta la piantina, viene sul pomodoro, raccoglie, il pomodoro, che buono il pomodoro, come cucini quel pomodoro, cioè, è proprio stata una cosa così. Di conseguenza, poi, il portare le cose che coltivavamo e che raccoglievamo al ristorante, quindi è venuta poi la parte della cucina, quella poi è andata avanti con la scuola alberghiera, con le varie esperienze di fatto di gioco per il mondo, nelle varie cucine di ristoranti, eccetera, eccetera, per poi ritornare ovviamente da me, prendere in mano i ristoranti di famiglia, continuando quella che è la terza generazione di lavoro che facciamo e evolvendo quello che è stato il lavoro finora, insomma, e quindi la parte di ristorazione. Roberto, tu una volta hai raccontato e detto che il ristorante per me era e l'è tuttora casa, perché era un luogo di amore per via delle persone che c'erano e per quello che si faceva. Ma è vero che papà non voleva proprio che tu entrassi in cucina minimamente? Cercava di tenerti alla larga? Sì, sì, confermo questa cosa, ma più che altro, guarda, è per un discorso proprio di sicurezza. Allora, papà da piccolo ha avuto un brutto incidente in cucina perché gli era finita dell'acqua bollente su un braccio e insomma si era fatto parecchio male, tanto che hanno dovuto ricuscirlo addirittura. Quindi era legato più a una paura pratica concreta piuttosto che magari a non fare il lavoro che fa papà, come spesso accade, no? E metti insieme le due cose, quando ero piccolissimo era il fatto della paura pratica di sicurezza, quando ero più grande il fatto che lui aveva già fatto una vita di sacrificio e ha detto evita di farla tu, fai un'altra cosa, no? Però poi sai, come dicevo prima, quando ami alla folia questo mestiere fai fatica a non trasmettere agli altri. Certo, quando la passione è talmente grande è normale. Bravissimo, ma è come il vostro mestiere, quando ci tenete compagnia al pomeriggio e ascoltiamo la radio, la passione oltre la musica è quello che ci arriva, no? Ai noi ascoltatori. E quindi questa cosa, più sei appassionato, più ovviamente la senti e più ti porta ad ascoltare quel programma o quella determinata persona, ecco. E questo è un po' il nostro mestiere, insomma, attraverso i piatti, attraverso la passione che ci mettiamo in questa cosa qua, ovviamente arriviamo alle persone che poi vengono a mangiare da noi in ristorante o comunque a quelle che ci seguono, ecco. E questo è un po' il gioco. C'è una cosa, scusami Roberto, che tu hai detto qualche tempo fa che mi ha molto colpito, perché hai detto quando io faccio un programma televisivo, comunque porto anche le telecamere, magari dentro il mio ristorante, c'è un motto che alleggia, insomma, nella tua interiorità, in tutte le persone che lavorano con te e ti collaborano, ovvero stasera facciamoli sognare. Questo è quello che tu hai detto. Sì, è vero. Che è una cosa bellissima, no? Perché inevitabilmente passa il benessere del cibo, di quello che si prepara all'amore, no? Magari che si mette in quello che inevitabilmente si crea. Ora, facciamo finta che questa volta, invece di essere giudice di cortesia per gli ospiti, sei tu che devi accogliere a casa tua degli ospiti. Qual è la cortesia principale che proprio non deve mancare, cioè che tu faresti per far sognare davvero i tuoi invitati? Cosa non manca nella casa o in una sera a cena firmata a Roberto Valbuzzi? Eh, questa è una bella cosa perché, sai, l'ospitalità si sviluppa in tanti punti di vista. È un'esperienza a 360 gradi di dettagli. Io dico, quello che hai detto è giustissimo, nel senso che noi cerchiamo di meritarci ogni giorno i clienti che vengono da noi a trovarci e così facendo io anche a casa, quando accolgo gli ospiti, cerco di meritarmi il loro tempo, no? Anche perché succede poi di rado perché facendo un lavoro che ti porta a lavorare la sera, comunque sia, insomma, fai fatica o nei giorni festivi sai fai fatica a cogliere le persone poi a casa perché di solito gli altri lavorano quando tu magari sei fermo o c'è nervo, insomma, quindi sei sempre fatica a questa cosa. Però è proprio quello che è, non tanto quello che metti in tavola, non tanto com'è la tua casa, non tanto, come si chiama, che cuscini hai o che piatti usi, che comunque fa estremamente parte dell'esperienza, ma quanto, scusa il gioco di parole, quanta voglia tu abbia di accogliere veramente le persone aprendo la porta di casa tua. E credo che parta proprio da lì la differenza, nel senso che se tu sei predisposto proprio ad aprire le porte di casa tua, a metterti ai fornelli e poi cucinare una pasta anche in bianco, dico una cavolata, una pasta al sugo, un buon pesce, due gamberi crudi e poco più, mettere due piatti giusti senza chissà far cosa ma pensati, già queste piccole cose messe insieme con la voglia proprio di accogliere è quello che ti fanno fare l'esperienza, ecco, ti danno quel calore che è un qualcosa di immateriale ma che ti fa sognare, no? Questo è un po' il senso. La mia nonna dice sempre, Roberto, che poi la differenza forse nella cucina soprattutto è proprio l'amore che metti, cioè lo stavi dicendo tu molto spesso anche una pasta in bianco però poi è l'amore, no? Magari con la quale la realizzi, la crei e la offri gli altri che fa la differenza. Bravissimo, ma ti faccio un esempio e questo anche per i nostri ascoltatori che magari ci stanno seguendo in questo momento può essere un po' calzante. Tu hai un profumo che quando entri in casa della mamma, della nonna, di qualcuno, di a te caro, quando lo senti, cioè proprio ti dà quella voglia di benessere, no? Ecco, quella cosa lì è quel qualcosa che è priceless, come si dice, è senza prezzo e che è quella cosa che ti fa realmente star bene ma perché dall'altra parte hai delle persone che si sono impegnate perché avevano voglia di farti vivere quella cosa lì, capito? E questo è un po' secondo me il senso, no? Cioè vai su aspetti tangibili che possono essere i dettagli ovviamente di quello che è un'apparecchiatura pensata, una cucinata ben fatta, una casa accogliente pulita magari che quello si spera sempre che ci sia, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi ci sono delle cose, ci sono delle cose che invece sono un po' immateriali ma che sono quelle lì che secondo me poi definiscono l'esperienza, no? E questo anche al ristorante noi cerchiamo di farlo, ecco. Roberto, prima di salutarti, di ringraziarti davvero di cuore per esserti raccontato ed essere stato qui con noi, concedimi ancora un'ultima curiosità perché prima abbiamo parlato di questo motto, no? Delle persone, dell'accoglienza che sia il ristorante o a casa, in qualsiasi contesto possibile, questo vostro motto di farli sognare. Ma qual è invece un sogno di Roberto Valbuzzi? Al di là dell'aspetto professionale, ce l'hai un sogno che proprio speri un domani di poter realizzare fino in fondo? Ma guarda, ti dico la verità, sono sincero che tempo fa ho ripreso in mano un vecchio libro dove chiedeva appunto quali fossero i tuoi obiettivi o i tuoi sogni, no? Insomma, nella vita. E sono sincero che rileggendolo mi sono accorto di aver praticamente raggiunto tutte quelle cose che mi ero scritto a me stesso di 15 anni fa. Perciò ti dico, più che un sogno o un obiettivo che ho avuto la fortuna e ci ho messo tanto impegno per riuscire a raggiungere quelli che già avevo in testa. E sarebbe un desiderio, diciamo, non so come dire, un desiderio un po' semplice da questo punto di vista. Però mi piacerebbe nella mia vita avere una piantagione o costruire una piantagione di vaniglia in Madagascar. Questo è proprio uno di quei sogni nel cassetto che è lì e che condivido con mia moglie. Ecco. Step by step, Roberto. Passetto dopo passetto, magari fra 20 anni ci ritroviamo... Ma quello molto più avanti. Anche 30, capito? Anche 30 ci ritroviamo tutti in Madagascar nella tua piantagione di vaniglia. È uno di quei sogni in pensione, non so come dire. Ho capito, ho capito. Ci sono quelli che vanno in pensione e poi si concentrano sui cantieri, Roberto guarderà la piantagione di vaniglia. Va bene. Bravo, c'è l'idea di stare in mezzo ai fiori, al profumo della vaniglia, non so questa cosa qua. Ma lo capite, lo capite davvero che questo ragazzo, come dice la sua nonna, è davvero genuino come si mostra. La nonna ha ragione, puoi dirle che Simone Lemmo dice che dà ragione alle sue parole, sacrosanta. Come direbbe la nonna è Ageldisi, Ageldisi. Roberto è stato davvero un grande piacere, un grande onore averti qua. Ti ringrazio per averci permesso davvero di entrare nella tua vita. Ti abbraccio forte, buon lavoro e grazie davvero. Ci risentiamo prestissimo, magari per parlare di nuove avventure oppure di questa vaniglia in Madagascar. Fantastico, un bacio a voi e a tutti gli ascoltatori. A te, grazie a Roberto Valduzzi. Ciao, ciao, ciao.